buongiorno a marco marchese delle officine della casa editrice officine editoriali da cleto buongiorno ben trovato grazie a te e il abbiamo avuto l'occasione proprio di un'intervista un anno fa che era come dire quasi a cuore puissante la casa editrice nasce nel 2019 già esattamente e quindi le mie questioni e l'interesse per la piccola grande editoria e il grande sta nella piccola non è la piccola e la grande e il è proprio come dire del proseguimento si avverte diciamo lo slanzo no della lo slanzo intellettuale lo slanzo editoriale dell'avvio dell'impresa ma la mia domanda è piuttosto come prosegue quali sono i progetti e oggi e tenendo conto anche di della della pausa forzata parziale della della pandemia e oggi siamo in una catastrofe maggiore e quindi magari come dire entrerà qualche testimonianza anche nell'edizione vostra e lascio a te la parola rispetto a questa progettualità del futuro del futuro in atto beh Giancarlo la casa editrice come dicevi tu nasce a novembre del 2019 la mia una piccola una micro casa editrice e in realtà il lavoro c'è anzi anche troppo paradossalmente in Italia naturalmente dove non si legge tantissimo con un'Italia che ha più velocità perché più si va a sud meno si legge perché io lo vedo proprio dai dai dati no dove spediamo dove spediamo i libri e comunque ci sono delle delle sacche delle fette voglio dire di mercato dove riusciamo bene ad inserirci e quindi tutto quello che ci arriva che è veramente tanto e riusciamo a anche con fatica a lavorarlo e ad esaminarlo e a creare poi dopo delle pubblicazioni che appunto che appunto lanciamo certo non è il periodo migliore perché la pandemia per esempio ci ha tolto un un canale che non tanto dal punto di vista commerciale ma dal punto di vista proprio del contatto umano con i lettori e quindi del contatto umano degli autori con i lettori abbiamo potuto fare veramente pochissime presentazioni e io mi ricordo che proprio all'inizio della pandemia soltanto su un libro che era il di dichiaruniti di Riccardo Cristiano avevamo approntato nei sei mesi successivi proprio a partire dall'aprile del 2000 no la pandemia è scoppiata a marzo con con il primo lockdown e a partire fra aprile e agosto dall'anno 2000 noi avevamo programmato 45 presentazioni penso un po' naturalmente in un colpo solo sono state segate letteralmente no e questo un po' c'è mancato c'è mancato e poi al di là di quello ehm l'editoria in sé ha dei grandissimi problemi soprattutto per quanto riguarda la distribuzione no e però noi ci siamo attrezzati in un modo diverso noi come casetrice ad esempio non abbiamo un distributore né regionale né nazionale ma facciamo una distribuzione diretta naturalmente collaboriamo con un certo numero di librerie che hanno preso in carico il nostro catalogo però il grosso la maggior parte dei nostri libri noi li distribuiamo direttamente ai ai nostri lettori e li raggiungiamo attraverso i social li raggiungiamo attraverso i social con un metodo diciamo nostro anche un po' particolare se vogliamo perché non utilizziamo la pubblicità la pubblicità magari massiva che vengono utilizzati sui social che possono essere facebook piuttosto che instagram o altri ma noi proprio abbiamo in base al tema trattato dal libro che pubblichiamo andiamo a ricercare sui social proprio le persone a cui può interessare questo determinato tema e proprio con un contatto diretto presentiamo presentiamo i nostri libri la cosa funziona e ne siamo moderatamente moderatamente felici anzi in questo momento devo dire che siamo accorto pure di collaboratori collaboratori che possono rivestire la figura di proprio promotori dei libri ecco da questo punto di vista siamo un po accorto e anzi ci posso diciamo approfittare di questa intervista che poi sarà vista sarà ascoltata da un certo numero di persone quindi se qualcuno si vuole affacciare al mondo dell'editoria vuole fare il promotore librario non c'è problema da noi c'è spazio lo possiamo fare poi per quanto riguarda i materiali ne arrivano veramente tanti quindi c'è da selezionare da scegliere perché noi abbiamo impostato oltre a linea editoriale abbiamo impostato anche la linea commerciale della casa editrice ed è quella che non siamo non siamo una casa editrice a pagamento perché nella piccola e micro editoria molto spesso ci si imbatte appunto nelle case editrici che magari fanno cioè sono vestite da casa editrice magari fanno un lavoro sono sono più stampatori che casa che casa editrice dal mio personale punto di vista l'autore in questo caso sono i clienti sì l'autore diventa cliente perché le case editrici a pagamento fanno un ragionamento molto semplice tu mi porti un testo io ti offro una serie di servizi che possono essere la correzione della bozza appunto poi l'impaggia di azione eventualmente l'editing del libro che sono tutti quanti servizi naturalmente a pagamento e poi dopo per stampare il libro come posso dire contrattualizzano e si mettono d'accordo con gli autori in modo che l'autore acquisti un certo numero di copie però poi dopo gli autori restano abbandonati a loro stessi se non c'è alle spalle la casa editrice che fa un certo tipo di promozione e vedo magari su tante foglie pubblicitari magari l'offerta di tutta una serie di servizi che possono essere articoli su stampa su una certa stampa specializzata oppure dei video però diciamo al giorno d'oggi anche a livello amatoriale queste cose qui si riescono ad autoprodurre senza magari tirare fuori centinaia di euro e comunque noi abbiamo fatto questa scelta non siamo una casa editrice a pagamento di conseguenza io ho messo in piedi una redazione noi selezioniamo analizziamo costruiamo dei progetti editoriali con le autrici e con gli autori e dopodiché facciamo stampiamo il libro naturalmente senza chiedere un centesimo agli autori e poi facciamo la promozione e cominciamo a commercializzarlo con il nostro sistema utilizzando i social network bene e una domanda avendo seguito quasi dall'inizio la tua intrapresa editoriale c'erano questi due dei progetti che ha frenato il covid la pandemia il li puoi riprendere se li puoi precisare per gli ascoltatori c'è uno era proprio intorno a credo dove esattamente dove è ubicata la casa editrice e la tua vita penso sì esattamente allora e la casa editrice opera c'è alla sua sede legale operativa a cleto in provincia di cosenza e questo piccolo borgo sulle colline affacciate sul mar tirreno nel basso tirreno cosentino avevamo questi due progetti sono stati frenati dal covid allora il primo progetto era centrato sul cleto natural è centrato sul cleto però un progetto che ha una sua visione più ampia perché può essere replicato e quindi l'idea era quella di stampare un libro proprio dal nome gente di cleto un libro fotografico e dove scattare una fotografia del momento no di questo piccolo borgo e quindi mettere proprio i volti delle persone lungo le vie del borgo e cleto sono 1200 abitanti però poi in realtà con le persone che figurano residenti ma che in realtà lavorano altrove sono sono molti di meno cioè stentati stentate 900 persone ecco quindi c'è un comune molto piccolo però a due bellissimi centri storici a due castelli peraltro e cioè cleto è conosciuto oltre che per l'olio e per le 200.000 piante d'ulivo che insistono sul territorio comunale anche per questa particolarità che ci sono questi due centri storici e due perché abbiamo cleto il centro storico e poi abbiamo il centro storico di savuto che è una contrada e che dà sul fiume savuto appunto e questi due centri storici hanno questi due castelli l'idea era quella di scattare una fotografia del momento ci sono anche delle terme a credito no 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 a calito non ci sono le terme nelle vicinanze se sì abbiamo per esempio la mezza terme dove ci sono le terme abbiamo guardia piemontese più nord dove ci sono le terme no no ma calito in seno e quindi l'idea è proprio era proprio quella di scattare questa fotografia del borgo con i volti delle persone ecco perché il titolo gente di cleto e dove dentro comunque aggiungevamo anche tutta un'altra serie di elementi anche di promozione del territorio perché nella linea editoriale della casa di dirige c'è proprio la promozione del territorio in particolare quello calabrese questo progetto qui essendo che prevedeva appunto le fotografie con le persone lungo le strade lungo le vie del borgo lungo le piazze quindi presuppone proprio dei piccoli o anche grandi assembramenti ci ha stoppato un po in questo progetto che andremo a riprendere beh adesso siamo usciti fuori dallo stato di emergenza naturalmente il covid non è finito i problemi continueranno ad restare sul terreno ma io sono convinto che prima o poi il covid ci mollerà nel momento in cui ci mollerà io riprenderò questo progetto perché non lo voglio lasciare in quanto poi è un progetto che ha prospettive di espansione future e perché noi abbiamo tutte queste piccole realtà non solo in calabria in tutta italia che sono i comuni interni comuni piccoli sono delle piccole comunità un po anche abbandonate a loro stesse a loro stessi e che andrebbero valorizzate andrebbero conosciuti eppure sono custodi di patrimoni e di tesori architettonici artistici culturali di tradizioni e tutto il resto che passa il tempo e più più si spopolano più rischi a questo patrimonio di disperdersi allora magari raccoglierlo in dei in dei volumi questo diciamo un progetto che ci può fare intravedere magari una collana anche nutrita di pubblicazioni l'altro progetto invece si chiama esperienza in terra di calabria esperienza in terra di calabria invece questo sta andando avanti perché si è bloccato naturalmente anche questo con la pandemia perché noi volevamo prendere dei pezzettini di territorio e quindi valorizzarle attraverso dei volumi fotografici e narrati sulle cose più belle che ci sono perché ti voglio fare un esempio pratico per capire lo spirito di questa iniziativa no cioè a scigliano e venti minuti di macchina da casa mia no scigliano cade ancora nella provincia di cosenza sul confine proprio con la provincia di catanzaro a scigliano noi insiste sul territorio di scigliano lungo lungo il fiume savuto il ponte romano più antico d'italia purtroppo non lo conosce nessuno c'è una roba c'è un ponte romano costruito eh pietra su pietra che sta lì eh da ben duemila e cento anni cioè parliamo di un manufatto che ha eh oltre duemila anni ne avrebbe avuto anche qualcuno in più perché in realtà il ponte eh lo che si chiama il ponte di Annibale questo ponte di Annibale fu eretto duemila e duecento anni fa poi dopo appunto fu eh distrutto da chi l'aveva costruito quindi dai romani stessi proprio per sbarare la strada sul fiume savuto e poi fu ricostruito quando il pericolo cessò e quindi dico ma dell'esistenza eh di questo manufatto così importante e non è consapevole la stragrande maggioranza delle persone che vivono proprio qui ok quindi una persona su due che vive a pochi chilometri da Scigliano non sa che c'è questa meraviglia che può essere visitata che è tenuta più o meno bene dal comune dove c'è addirittura anche un'area picnic là vicino eh oppure non lo so i dipinti di fiume a fiume freddo Bruzio no in questa cappella dove tu arrivi e che e che non immagini nemmeno vabbè fiume freddo Bruzio fa parte dei borghi più belli d'Italia no è tenuto molto bene però se tu non lo sai non sospetti nemmeno che c'è questa cappella dedicata a San Rocco dove tu entri alzi la testa e vedi questa meraviglia dove c'è questa mh questo affresco circolare e che affresca tutta la volta di questa cappella e che racconta la vita di San Rocco fatta da un pittore molto noto che è Fiume quindi lo spirito dell'iniziativa era questo questo progetto è andato avanti perché ehm stiamo per pubblicare ora però non posso diciamo scendere un po' nei particolari perché eh eh dice per ovvie ragioni no ehm e però stiamo lavorando adesso ad una collana di sei volumi sono sei volumi che usciranno nel tempo il primo dovrebbe uscire adesso per l'estate ehm e che va appunto a ehm narrare la storia eh la la storia e la contemporaneità e soprattutto che cosa si può fare nei borghi arbreche calabresi ehm i borghi arbreche praticamente sono delle comunità di origine albanesi che si sono insediati tantissimi secoli fa in in Calabria eh sono veramente degli eh sono veramente dei tesori c'è una cultura immensa e quindi vale la pena che questa sia valorizzata e questi piccoli borghi sono sia sulla fascia tirrenica che all'interno è sulla fascia ionica e quindi noi tireremo fuori uno dopo l'altro questi sei volumi sui borghi arbreche divisi territorialmente e chi entrerà in possesso di questi eh volumi sarà come posso dire invogliato a fare una visita su questi borghi per andare a vedere a scoprire questi tesori nascosti a scoprire ehm eh tradizioni popolari percorsi enogastronomici ehm ambiente ambiente incontaminato e colline monti fiumi laghi eh dove praticamente si può fare quel famoso turismo eh lento e quel e dove animare quel concetto di turismo moderno che non è ehm il turismo di di massa che è soso eccetera eccetera ma il turismo il turismo esperienziale no dove tu vai a fare il turista eh può essere un giorno possono essere due o possono possono essere anche due mesi eh però tu ehm eh ti mescoli con il territorio in quel momento lì diventi anche parte di quel territorio e quindi non fai soltanto il turista con la macchina fotografica scattoni istantanei e poi dopo vai via ma fai un'esperienza un'esperienza a trecentosessanta gradi ti immergi ehm ti mescoli fra le persone e che è la forma di turismo moderna che è la forma di turismo adesso anche più più apprezzata perché il turismo non è più soltanto andare sulla spiaggia rostirsi al sole e la sera andare in pizzeria e poi la notte andare a ballare ma è portarti qualche cosa no dei tuoi viaggi anche nel cuore e quindi mescolarsi con le persone fare appunto esperienza e per l'aspetto importante di diritti civili ci sono progetti? Beh sui diritti civili abbiamo appunto pubblicato il primo libro è nato proprio con il libro di Riccardo Cristiano che poi è il mio il mio compagno il mio il mio marito per il quale io sono unito unito civilmente e che si chiama questo libro si intitola vi dichiaro uniti quindi parla narra appunto di diritti civili eh della comunità arcobaleno però non solo questo abbiamo affrontato per esempio il tema del fine vita con Elena Giordano no? Questa straordinaria ragazza di diciotto anni che a diciotto anni ha scritto su un tema delicatissimo come quello del fine vita con una postifazione di Mina Welby abbiamo affrontato il tema della cannabis terapeutica Emilio Grimaldi che ha raccolto la storia di Andrea Triscioglio quindi assolutamente sì ce n'è tantissimo anche perché nella linea editoriale della casa editrice oltre alla valorizzazione del territorio in particolar modo del territorio calabrese c'è proprio la promozione della persona e dei diritti umani bene il 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 terzo aspetto è quello che si coglie dalle pubblicazioni c'è anche eh questo l'interesse per per la letteratura per i racconti per i romanzi sì l'interesse per la letteratura i romanzi sicuramente anche la narrativa per bambini quindi abbiamo pubblicato anche un bel libro eh eh per bambini che non è soltanto la narrazione di due favole ma abbiamo voluto aggiungere qualcosa in più per cui inserire dentro anche un disegno da colorare mh allegare al libro una confezione di sei piccole matite di cera e creare anche l'audiolibro quindi fare in modo che anche i più piccoli possano avere un'esperienza più completa e quindi oltre a leggere il libro poterlo ascoltare con l'interpretazione di una voce narrante che comunque racconta che mima i suoni poi sai nelle favole ci sono ci possono essere gli animali oppure ci possono essere entità metafisica particolari no e quindi anche bello ascoltare ascoltare lavorare di fantasia con questi suoni e poi naturalmente c'è anche la saggistica per esempio mi piace ricordare sta andando molto bene questo libro percorsi laici di Tullio Monti ad esempio no che è una accuratissima ricerca storica e che oltre a questa è una raccolta di saggi che ha fatto Tullio Monti che dà una vita che si occupa appunto di laicità e lui è stato anche il presidente della consulta per la laicità insediata insediata a Torino bene il scusami poi si vale la pena perché si mi è venuto in mente proprio l'inizio della tua domanda sì e poi se parliamo insomma da narrativa è appena uscito appunto il secondo libro di Riccardo Cristiano dopo che vi dichiaro in Italia si è pubblicato un Archeofantasy e quindi qui siamo proprio nel voglio dire nel romanzo puro però con dell'ambientazione calabrese molto bella perché Riccardo l'ha definito un Archeofantasy e si intitola la compagnia del lupo e la quarantesina porta c'è già il titolo un po' accattivante questo magari apparentemente potrebbe sembrare più rivolto verso un pubblico giovane però è un testo in realtà che può essere letto tranquillamente da tutti quindi non è una storia costruita cioè non è una storia adatta solo per adolescenti oppure giovani persone va benissimo per tutti e questa è la seconda fatica appunto di Riccardo Cristiano e sono molto contento perché amplia il ventaglio no? Siamo una cassa editrice generalista e quindi seguendo sempre una linea editoriale vogliamo diciamo spaziare fra varie fra varie cose quindi non essere specialistici soltanto su un argomento i libri sono divisi naturalmente in in varie collane quindi c'è c'è da scegliere bene benissimo questa questa intervista sarà diffusa sul sito transfinito.it e sarà diffusa e con questo sito che continuiamo ad alimentare e a costruire che liberi.tv io ti ringrazio anche da parte di chi avrà la fortuna di ascoltare anche questa bella intervista e ringrazio per per l'entusiasmo per la forza che che ci mettete che è la è la carta vicente grazie Marco Marchese grazie 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 mille Giancarlo e un saluto a tutti i nostri ascoltatori grazie grazie a tutti